In Italia ci sono 40.000 imprese a rischio immediato usura, sono quelle del sud le più esposte a Napoli, Palermo, Bari. Gli effetti del Covid per queste aziende sono stati devastanti. Dal 2019 a oggi la quota degli imprenditori che ritiene aggravato il fenomeno usura è aumentata di 14 punti percentuali. È indubbio che lo scenario in atto sia di estremo interesse per le mafie, capace di adattarsi ai cambiamenti e ai mutamenti socio-economici e cogliere nuove opportunità di investimento. Nel 2020 l'indice dei reati commessi ha subito anche per via del lockdown un generale decremento rispetto al 2019, meno 20%, ma il fenomeno dell'usura invece è aumentato. 222 casi nel 2020, il 16% in più rispetto a un anno prima quando erano stati rilevati 191 casi. Servono sostegni adeguati e un preciso piano di riapertura, secondo Confcommercio, che in occasione della sua giornata della legalità pubblica uno studio dove rileva che rischiano la definitiva chiusura 300.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, di cui circa 240.000 esclusivamente a causa della pandemia. Sul 2020 le imprese del commercio, alloggio e ristorazione indicano per il 50,7% una riduzione del volume di affari, per il 35,3% mancanza di liquidità e difficoltà di accesso al credito, per il 14% problemi di tipo burocratico. La vulnerabilità delle piccole e medie imprese aumenta il rischio di sviluppo dei fenomeni usurai, che oggi vengono gestiti dalla criminalità con metodi sempre più sofisticati. Tante volte lo fa anche con una forma di welfare alternativo e i cittadini non sempre si rendono conto davanti a un momento di difficoltà, che invece bisogna essere molto attenti perché una volta entrati in un circuito di illegalità è difficile uscirne. Le vittime devono allora uscire allo scoperto, sporgere denunce è l'unico modo, dice la ministra dell'Interno, per non sentirsi soli, per essere aiutati dallo Stato. Grazie.